L'ingrossamento della parola La parte interna delle ginocchia è un problema comune a molte donne, l'accumulo adiposo localizzato proprio nella parte interna della coscia fa sembrare anche la gamba con la pelle a buccia d'arancia facendola apparire quasi storta per questo eccesso di grasso. La liposcultura può dare un grande aiuto a questo tipo di problematica, Roberta la nostra amica di questa sera aveva questo problema, ha deciso di intervenire e questa è la sua storia. Ciao sono Roberta, ho 30 anni e vivo a Roma. Come lavoro faccio la commessa da tanti anni, è un lavoro che mi piace tantissimo anche se ho un hobby che mi lega tantissimo al mio amore che condivido con lui da tre anni ormai ed è il teatro. Essere spettatrice e consigliera mi lusinga molto questo. Sono delle emozioni forti che mi piace molto condividere con il mio fidanzato. Un'altra cosa che mi piace tantissimo e che mi affascina è proprio la scenografia del teatro. Spesso faccio da manovale proprio perché l'aiuto in questo mi gratifica anche. Visto che è un momento di grande equilibrio nella mia vita, sentimentale, lavorativa, ho deciso di mettere a posto anche qualcos'altro nella mia vita per cui non andavo proprio fierissima. E questo riguarda il mio corpo. Io quattro anni fa non pesavo, non ero così, insomma, non pesavo 30 kg di più e con una dieta dimagrante sono riuscita ad arrivare a questo peso. Sto continuando a dimagrire, però ho deciso anche di fare un intervento per sentirmi migliore, insomma. Avendo perso 30 kg ho avuto uno svuotamento, ma non dove volevo io, insomma, le ginocchia sono il mio punto critico. Non mi piacciono, non mi sono mai piaciute, non mi piacciono tuttora anche avendo perso 30 kg. Quindi ho deciso di intervenire lì. Comunque ho provato anche tanti tipologi di creme, trattamenti e non sono riuscita ad avere il risultato che volevo. Sono dovuta ricorrere, insomma, alla chirurgia e quindi a un'anuale posizione. E spero di ottenere il risultato che immagino del mio ginocchio per avere, insomma, anche una gratificazione a livello personale, soprattutto per il percorso che ho fatto. Allora, abbiamo sentito le prime battute della nostra amica Roberta, che ci ha descritto qual era il suo problema. Un problema comune a molte donne, però è possibile, abbiamo detto in apertura, risolvere con questa liposcultura di cui parleremo nel corso della puntata. Passo subito a presentarvi gli ospiti. Alla mia destra diamo il bentornato alla dottoressa Vanessa Sperti, chirurgo plastico ed estetico presso l'Aurelia Hospital di Roma. Buonasera, è benvenuta tra noi. Il dottor Federico Anniballi, psicologo di ICP, istituto chirurgia plastica in Roma. Buonasera, dottora Anniballi. E poi un grazie particolare a una giornalista e scrittrice, la mia amica Mara Parmeggiani. Grazie infinitamente Mara per essere con noi, perché questa sera ci parlerà della sua bruttissima esperienza che ha vissuto, perché anche lei era sulla nave Concordia, ha vissuto momento per momento quello che è successo su questa nave, è scampata al pericolo anche alla morte, perché parecchie persone sono disperse, non si ha più notizie, oramai è passato quasi un mese. Un mese, esatto. E' stata veramente un'esperienza terribile che però lei con la sua grande verve di giornalista e scrittrice ha messo subito nero su bianco per portare una testimonianza importante che noi raccoglieremo questa sera, proprio in questo libro che ha scritto appena tornata a Roma. Ancora eccolo qui, ecco Alessio grazie, ancora ecco l'inchino, storia di un naufragio dove vedete queste immagini terrificanti della nave Costa che veramente in questo libro è possibile ripercorrere momento per momento quello che è accaduto. Un report importante anche sulla base di quelle che poi saranno le testimonianze, che saranno le indagini che si stanno effettuando su questa tragedia così importante. Mara, ecco, dove hai trovato la forza per riuscire a reagire così nell'immediatezza in una situazione che all'inizio è stata sconfessata dallo stesso comandante? Non lo so dove l'ho trovata, forse è la mia deformazione professionale, il fatto che sono una giornalista anche cronista, per cui ho memorizzato momento per momento, attimo per attimo, tutto quello che stava accadendo. E ho sentito una necessità una volta scesa a terra di lasciarlo, di metterlo per iscritto, ma mi è venuto giù con una scorrevolezza direi un po' insolita, senza quasi ricorreggere le pagine. E ne è scaturito un racconto, un testo importante che non è servito solo a me, ma lo condivido con le 4200 persone che hanno vissuto con me e la stessa esperienza, alcune delle quali poi non lo potranno neanche più leggere perché non si ritrovano più. Io pregherei Alessandro, cortesemente all'oggi, ad aiutarmi con delle foto, testimonianza di questi momenti che Maria è riuscita a portare qui in studio da noi, momenti tristissimi, importanti, che però anche la nostra rubrica Operazione Bellezza non poteva esimersi da portare un caso di cronaca così importante che sta facendo il giro del mondo. Queste sono foto fatte con il telefonino, che non mollerò mai più perché insomma sono foto che hanno raccontato veramente tutta questa tragedia in mane, questo sconvolgimento. Pensate alle scialuppe che non scendevano perché si incagliavano, alcune si sono fracassate sulla parte più esterna, quella più alta della nave, gente che si tuffava dal ponte cercando di trovare in mare la salvezza e molti invece si sono rovinati anche perché sotto il pelo dell'acqua c'erano ancora gli scogli. Ecco Mara, vedete Mara appoggiata a una colonna? Sì, no, questo è all'interno di un piccolo armadio. Ah, un armadio? Sì, ci hanno dato la disponibilità di avere una stanza, anzi devo ringraziare tutti gli abitanti del Giglio, il sindaco, il parroco che ha aperto la chiesa, quindi gli albergatori, noi eravamo 22 in una stanza, avevamo devo dire la possibilità di avere un bagno, il che non è poco in quelle circostanze. Tra l'altro ecco la cosa, avete visto il freddo di questi giorni e la neve, anche un mese fa faceva un freddo terribile, tra l'altro come tutti saprete nelle navi, insomma il clima è riscaldatissimo, stavano tutti in abito da sera e si sono trovati all'improvviso in mezzo al mare aperto con quel freddo terribile, vestiti magari di seta o di cose leggerissime. Non solo, ma io ero andata lì per lavoro perché eravamo un gruppo di 300 persone per realizzare un format, sarebbe stata professione lookmaker, per cui queste 300 persone a bordo, 8 ragazze, perché dovevo fare una sfilata con la mia collezione di abiti vintage. Ecco questa è una pagina, come vedete, che il nostro regista Alessandro Bispuri ha subito prontamente riportato, una pagina estratta dal tempo, ma c'è una rassegna enorme che ritrae appunto Mara, eccola qui, all'uscita della nave con il salvagente che è riuscita ad avere, perché c'è stata anche una lotta furibonte, perché i 4.000 passeggeri, ognuno di loro aveva, ognuno di noi aveva in cabina un proprio salvagente, ma data l'impossibilità di accedere alle cabine perché al quarto ponte immediatamente è entrata come una voragine l'acqua, quindi chi aveva le cabine al quarto ponte per esempio non poteva accedervi perché l'acqua già arrivava al portfaccio, per cui quelli che erano disponibili erano sui ponti, ma non bastavano per 4.000, quindi c'è stata una sorta di arrembaggio ad accapararsi il salvagente che comunque costituiva in quel momento un salvavita. Certo, certo. Allora Alessandro hai anche tu le foto degli abiti che Mara ha perso per sempre, perché sono, eccoli qui. Questi sono abiti che hanno sfilato già... Degli anni 50? 50, 60, fino agli anni 90 sono la memoria storica delle grandi sartorie italiane che hanno portato il Made in Italy in tutto il mondo, sfilati che hanno sfilato a Mosca, San Pietroburgo e Katerinburg, a Brasilia e già questi abiti erano... Questo per esempio è un Valentino, cioè ci sono delle cose, dei lavori stupendi che non ritroverò mai più, saranno proprio cose ormai perse, colpite e affondate dico io, da Balestra e con Fustenberg, ma sempre relativi agli anni dove è iniziato il progetto di alta moda. Questo a destra in bianco e nero è un Valentino, quell'altro ancora è un Fustenberg. Ripeto, cose che non troverò mai più e che abbiamo perso, abbiamo perso qualcosa che fa parte anche della cultura. Perché noi viviamo anche di moda oltre che di turismo, quindi passiamo anche al danno a livello turistico che abbiamo subito noi in Italia proprio per questo incidente macroscopico, colossale. Mara ovviamente con la sua prontezza, la sua forza d'anima è riuscita subito ad andare in una scialuppa, è riuscita tra l'altro a fare il suo lavoro di report, non l'ha perso di vista un momento, perché dopo 40 minuti neanche che era... No, io immediatamente ho fatto subito un'ansa e ho comunicato al mondo, diciamo attraverso l'ansa, quello che stavamo facendo. In un primo momento sembrava un blackout elettrico, così la voce di chi parlava a nome del comandante. E questa è già una cosa che non ha dato tranquillità ai passeggeri, perché se si fosse, avesse parlato il comandante con la sua autorità e avesse detto abbiamo un blackout, però abbiamo una nave di appoggio, perché lui si è reso subito conto, una falla di 70 metri che insomma non dà scampo, e avesse detto sono il comandante, non c'è pericolo, nessun pericolo, scendete dalle scialuppe tranquillamente, perché abbiamo una nave di appoggio che vi prende. Una volta scesi dalle scialuppe o andare su una nave d'appoggio o approdare all'isola del Giglio non si trasmetteva quel panico che abbiamo avuto a bordo, perché continuamente non davano il my day e quindi abbiamo passato quasi due ore in attesa che qualcuno che a nome del comandante spiegasse la situazione. Tra l'altro, Mara, tu sei figlia anche di un ammiraglio, perché c'è un po' di praticità e di messichezza con queste situazioni. Ma non lo so perché immediatamente all'urto, noi eravamo in sala da pranzo, in attesa che ci servissero la cena c'è stata un'enorme strusciata sotto i nostri piedi, un boato, un urto pazzesco e il blackout. Quindi tutto conseguenziale e la nave che si è inclinata. Io ho solo questo ricordo dei calici, dei bicchieri che mi venivano addosso senza il calice. Quindi questi bicchieri che si spezzavano da soli, pensate che urto pazzesco. Era gente che correva e urlava, cercava di uscire e questi carrelli portavivande che servivano per la distribuzione del cibo ai vari tavoli, che come delle palle da bullying schizzavano verso le persone, verso l'uscita perché era in discesa. Ecco, sul comandante Schettino le indagini sono ancora in corso, c'è da accertare fino a che punto sia stata realmente la sua non tempestività a radicare questo grave danno a tutti i 4.000 passeggeri. Ecco, si vedrà quali sono le sue reali responsabilità. Però questa, vi ricordo, è una testimonianza importante. Per chi vuole sapere qualcosa di più su quello che è realmente accaduto e che, non finirò mai di dire, è stato riportato fino a un certo punto perché poi ci sono state delle voci, poi delle smentite. Tutti abbiamo seguito in questi giorni la cronaca di questo evento tragico. Ecco, qui Mara, sapientemente con la sua scrittura veloce di report di giornalista e di scrittirici con esperienza collaudata da anni, ci dà una testimonianza che farà la storia di questo caso così importante. Ricordiamo che chi lo volesse ordinare o chiedere è la Rotoform che lo edita, ma credo che poi ci saranno in distribuzione presso la Mondadori, la Felcinelli, però la cassa editrice è la Rotoform. Ecco, vogliamo ricordare perché è una testimonianza davvero importante. Poi torneremo perché ci sono degli episodi che Mara ci vuole raccontare, li racconteremo nel corso della trasmissione, dei momenti veramente agghiaccianti. Allora, riprendiamo il nostro discorso. Grazie comunque Mara per averci dato intanto questa piccola parte del tuo racconto. Allora, dottoressa, torniamo a lei. Io vorrei vedere un altro pezzettino, se lei d'accordo, della storia della nostra amica Roberta per capire un po' di più della persona che abbiamo di fronte. Vediamo ancora la storia di Roberta. Come e quando è scaturito il desiderio di operarsi? Naturalmente è proprio schizzato fuori di me, proprio subito dopo aver perso abbastanza chili, insomma 30 non sono pochi, e quindi questi mi hanno dato la forza di volontà di arrivare a pensare ad un intervento, insomma. Cosa o chi le ha impedito di fare prima questa operazione? Ci sto pensando da tantissimo tempo perché comunque mi hanno sempre detto che c'erano delle cicatrici che potevano rimanere sul mio corpo, quindi è stato primariamente questo, però poi comunque avendo visto la dottoressa, poi avendomi spiegato, insomma ho capito realmente che era una cosa che poi volevo fortemente e anche se rimane qualcosa, insomma, lo accetto così com'è. Ricorda situazioni in cui a causa del suo difetto si è sentita a disagio? A disagio in particolar modo no, diciamo che è una situazione che vivo giornalmente perché comunque proprio è nel vestiario, quindi io non adoro portare minigonne, però comunque la lunghetta come gonna mi piace tantissimo, che il mio ginocchio si intraveda e che non mi piaccia è fondamentale, quindi per questo ho deciso di intervenire. Allora, ecco, stavamo commentando un pochino con Mara anche quello che è l'atteggiamento delle persone comuni che non hanno conoscenza nei confronti della chirurgia plastica e che si interrogano sempre su quello che può essere il post-operatorio, la cicatrice e questo Mara, come dicevamo appunto durante il servizio, non permette poi di andare incontro ad un intervento che è di una semplicità, insomma. Ma in realtà poi la cicatrice è l'ultimo problema. È un 2 mm, massimo 3, come incisione. Sì, certo. E poi con una sutura estetica, con un filo sottilissimo non si vedrà nulla. Assolutamente. Però ecco, inibisce un pochino la non conoscenza di questo intervento. Quindi è bene sottolinearlo che non ci sono proprio, diciamo, fattori esterni. Cicatrici niente, non si vedono, non solo, ma vengono posizionate in arie più coperte, più facilmente non esposte, insomma. Certo, certo. Perciò, insomma, ecco, la non conoscenza a volte inibisce quello che è un percorso che potrebbe poi risollevare... Le historielle false. Ecco, potrebbe risollevare di tanto l'umore, no, dottor Aniballi? Questo abbiamo detto molto spesso che una delle ragioni che tiene lontano, ma per certi versi carica anche di uno stato ansioso i pazienti, è il non conoscere e il non sapere, no? Ed è, dico spesso, che questa trasmissione secondo me contribuisce molto invece alla salvaguardia, diciamo, della cultura della chirurgia plastica e soprattutto al benessere dei pazienti, perché in qualche modo conoscono quello a cui vanno incontro, ne sono consapevoli e dunque quando si fa un bilancio fra i pro e i contro, evidentemente come in questo caso non può che vincere la chirurgia, soprattutto perché, come capita spesso con i pazienti, tutt'umato che preferisco, cioè quelli che utilizzano la chirurgia come una sorta di premio, come conclusione di un percorso, quindi non c'è la bacchetta magica del chirurgo che interviene per darci o appunto darci ciò che non abbiamo o curarci quello che presumiamo di avere, invece è semplicemente appunto un modellamento, un coronamento di un grande sacrificio, cioè perdere 30 kg non è da tutti, vuol dire volontà, vuol dire aver fatto dieta, vuol dire aver fatto attività. Si vedono molto e sono difficili da eliminare, anche perdendo altri 30 kg sarebbe presumibilmente rimasta la deformazione, si chiama elefantiaca, perché sono delle zone ereditarie, sì, e inoltre sono delle zone in cui è difficile perdere una volta accumulate, sono delle tipiche aree di accumulo dove non essendoci una fascia muscolare, esatto, le ginocchia, c'è l'inserzione dei tendini, non c'è un muscolo che possa utilizzandolo possa bruciare come in altre aree, così come il culotto del cheval o i fianchi, sono delle zone tipiche d'accumulo, per cui dovrebbe diventare... Massaggi, ginnastica, non servono a niente se sono localizzate proprio lì, come ci sta dicendo lei, ginocchia e fianchi, è molto difficile, e allora in questo caso l'unica strada da percorrere è la chirurgia che non lascia cicatrici, si fa in hospital con un anestetico locale, si usa un cocktail, un minimo di sedazione per chi sceglie, poi sarà l'anestesista a parlare singolarmente con i pazienti e decidere che tipo di anestesia fare, la sera torna a casa, il giorno dopo deambula, anzi deve deambulare, è una ripresa molto rapida, con delle grosse soddisfazioni per essere un intervento. Lo credo, e credo che poi con un ginocchio riformato si porrà anche in un modo diverso, anche a livello psicologico. Una ragazza di 30 anni, l'ex Fusso Minigon, insomma è una bella parte da esporre. Io credo che in questi casi sia anche un discorso di stallo, no? Cioè, arrivato a un certo punto, si arriva a una condizione in cui la dieta ha portato i suoi frutti, diciamo l'atteggiamento mentale, per esempio rispetto all'attività fisica, rispetto al modo di porsi, è arrivato al massimo compimento. Allora c'è bisogno di un valore aggiunto, di qualche cosa che è importante per sé ed è soggettivo. Non penso che fosse un problema oggettivo, né tantomeno mi sembra che la signora sia totalmente arrivata a fine percorso. Mi pare che ci siano ancora dei chili da perdere. Allora che succede? Che veramente mettere forza sulle ginocchia significa riprendere forza sulle gambe per poter continuare, no? Anche a livello metaforico è interessante. E quindi si riparte da un qualche cosa che per la signora era importante e da lì si riparte per poter continuare verso quello che è il vero obiettivo. La conoscenza aiuta, no? Abbiamo detto. Non è mai sufficiente leggere, informarsi, eccetera, perché si può sapere sempre qualcosa di più che poi ci può aiutare per raggiungere l'obiettivo che ci poniamo, il percorso. In questo Roberta è stata veramente una donna molto forte, è riuscita a dimagrire tutti questi chili e poi è andata al chirurgo plastico per terminare questo percorso. Io però vorrei tornare un secondo, se Alessandro mi aiuta dalla regia, vorrei rimandare un attimo queste immagini che sono veramente molto forti, perché ho una cosa in mano dall'inizio della puntata che mi ha dato Mara, ecco guardatele, questi sono momenti scattati con un telefonino che veramente in certi momenti aiuta la tecnologia così a portata di mano, ecco questa inclinazione così forte che poi ha portato tante persone a perdere la vita, perché voi come sapete una nave che ospita 4.000 persone, è una cosa enorme e quando come ci diceva Mara hanno detto spostatevi verso il ponte tal dei tali, ecco chi lo sapeva essendosi imbarcati, ecco è successa una cosa strana, ecco vedete io ho in mano questo orsetto che vorrei chiedere ad Alessio cortesemente di inquadrare, avete sentito in questi giorni la storia della bambina che stava con il papà e questa bambina Mara l'ha incontrata mentre stava andando verso la scialuppa, era in braccio al suo papà, il papà stava facendo questo viaggio insieme alla sua nuova compagna, aveva la sua bambina, la compagna l'ha persa del percorso, non si sa dove è andata a finire perché ognuno ha cercato la salvezza come poteva e questa bimba era in braccio stretta al suo papà e era con gli occhioni così veramente della paura e Mara aveva nella borsa questo orsetto che aveva comprato così come vezzo, come facciamo molto spesso le donne per aggiungere al portachiavi e l'ha voluto in un gesto così di umanità e di mamma immediato dare a questa bimba, no Mara raccontaci un attimo cosa è successo. Io credo che fosse quella perché mi sovrappongono le immagini, questa bambina con gli occhioni però spalancati, una bambina un po' grandina in braccio al papà e aveva, era avvolta in qualcosa che non le apparteneva, quindi qualcosa di più grande, qualcuno dice che il padre l'aveva coperta con un cappotto ma non lo so dire, so soltanto che vedendola così mi sono ricordata di questo orsetto che avevo in borsa che poi ho ricomprato per tenermelo e gli ho detto aspetta aspetta che ho una cosa per te, quindi glielo ho dato, lei l'ha presa, ho guardato che addirittura questo orsetto muoveva le gambine, l'ha fatto vedere al padre e poi si esporta per darmi un bacio. Io sto cercando la bambina che l'ho avuto perché vorrei ritrovarla e se proprio non fosse possibile non è che mi consola, penso di averle dato un ultimo sorriso perché poi è sparita tra la folla. Purtroppo ecco i soccorsi in questi giorni non sono stati aiutati dalle condizioni climatiche per la neve, ecco al giglio è anche nevicato tantissimo, hanno dovuto un attimo sospendere i subacqui, poi hanno ripreso però purtroppo di questa bimba e del suo papà non si hanno ancora nessuna traccia e questa è veramente una testimonianza sconvolgente che tu ci hai portato. Diciamo che la nave portava 300 ascensori che non sono pochi, alcuni di cristallo che si muovevano all'interno di questo grande spazio che raccoglieva più saloni e mi viene naturale pensare che in questi 300 ascensori qualcuno c'era dentro al momento dell'impatto, però i sommozzatori ancora non sono riusciti a entrare all'interno della nave così come non sono riusciti a entrare nelle sale delle cucine dove mi dicono che c'erano almeno 30 filippini che sono stati invasi dalle acque, quindi non vorrei che questa tragedia fosse ancora più pesante di quella che ipotizziamo che insomma ci dicono adesso. Allora, ecco come dicevo Mara veramente ha saputo reagire in un modo esemplare, si è fatta forza, è andata avanti, addirittura ecco le tue modelle erano tutte scalze abbiamo avuto l'isola del Giglio, si sono dovute togliere le scarpe e pensate che noi eravamo inclinati almeno a 40 gradi, quindi stare in equilibrio in quella posizione per sperare di accedere alle scialuppe è stato veramente un lavoro di muscolatura, le ragazze sono scese scalze, pensate a mezzanotte sul porto a piedi nudi, però abbiamo avuto molta collaborazione da parte degli abitanti del Giglio che normalmente sono 800 persone, se ne sono trovate 4.000, quindi sono venuti e ci hanno offerto le calze per le ragazze, le pantofole, le coperte, io stessa mi sono trovata una tovaglia addosso, non so come era più avuta e il parroco ha aperto le porte della chiesa, quindi ci sono stati signori che sono venute portando arance, acqua minerale, una sciocchezza, il piccolo bagno della chiesa aveva una fila interminabile, ebbene qualcuno ha pensato anche alla cartigenica, pensate questo sottile pensiero di queste persone che sono da tempo immemorabile direi per DNA abituate a soccorrere i naufraghi, quindi è stata una cosa molto importante, molto bella, poi alcuni albergatori hanno aperto le stanze degli alberghi e noi ci siamo ritrovati in 22 in una stanza, ci siamo tolti i salvagenti, l'abbiamo utilizzato per appoggio perché altrimenti saremmo andati col sedere sul pavimento, ma sicuro che non era proprio il momento giusto, e quindi tutti insieme ci siamo poi fatti coraggio. Ecco il fatto che io avessi due cellulari a disposizione per telefonate brevi, mi raccomandavo ai colleghi della stampa, delle varie agenzie, mi ha dato forse la forza di superare, il mio cervello ha lavorato autonomamente dal corpo, devo dire, e quindi di registrare tutti i momenti, tutti i momenti, non me ne è sfuggito uno sinceramente, e quando l'ho riportato sulla carta mi sembrava di svolgere il rotolo della memoria, è rimasto impresso. Grazie Mara per questa tua testimonianza, andiamo avanti con la nostra trasmissione, vediamo il momento clou, che è quello tra il chirurgo plastico e il paziente, dove viene deciso appunto il piano operatorio, vediamolo insieme. Allora, oggi abbiamo deciso di trattare le ginocchia, mi racconti un attimo, queste ginocchia si sono gonfiate, cioè le vede gonfie da quando è dimagrita? Sì, beh sì. Perché si è evidenziato il cuscinetto. Esatto, sì, quindi è una cosa esteticamente proprio brutta da vedere. Se lei me lo solleva, spieghiamo un attimo meglio, e le spiego un attimo meglio tutto, un pochino più alto, grazie. Allora, la signora ha questo ginocchio che è ancora, diciamo, piuttosto abbondante, quindi abbiamo deciso di effettuare la liposuzione, in questa zona vengono fatti a dimostrazione del fatto che la parte più evidente del ginocchio è la parte centrale, e quindi il resto della liposuzione dovrà essere fatta sfumando. C'è anche un pochino di gonfiore in questa zona su cui lavoreremo. La signora, mi pare che lei voleva anche trattare questa parte, però effettivamente non riusciamo a trattarlo molto, perché essendo una gamba ancora molto grande, un pochino a sfumare ci possa andare, il rischio è che venga facilmente un avallamento, che poi è estremamente antipatico. Quindi ho consigliato alla signora comunque di aspirare questa parte, di andare a sfumare un pochino qui, accontentandosi di un ginocchio che sicuramente sarà alla metà, ma un pochino meno modellato nella parte superiore, perché dobbiamo tener conto dello spessore del resto della gamba. E ha qualche domanda da farmi? No, te stiamo in filo di l'anestero. Allora, faremo due piccole incisioni, una sul dorso e una lateralmente al ginocchio. Faremo un'anestesia locale e durerà una mezz'oretta e lei uscirà dalla sala operatoria con una guainetta, una calza elastica e una spugna compressiva. Allora, abbiamo visto la professoressa Garofalo, appunto, che spiegava dettagliatamente l'intervento. La nostra amica Roberta era assolutamente d'accordo e condivideva, insomma, quello che erano le decisioni, la prospettiva del progetto operatorio. Diamo la linea alla regia e poi torniamo subito in studio. La dottoressa Sperti, appunto, ci spiegherà le varie fasi. 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 Delizia, delizia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Se eu te pego, viu? Uh! Se eu te pego, viu? Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.